Le motivazioni che l'hanno spinta ad accettare questa nomina? I principali motivi che mi hanno spinto favorevolmente ad accettare questa nomina sono la fiducia che i colleghi imprenditori hanno riposto in me e il voler rilanciare questo territorio ripensandolo e rendendolo più accogliente per quello che riguarda le idee e le attività industriali che vorremmo proporre. Quali strategie metterete in campo per risollevare questo territorio e per rilanciarlo come le stesse ha detto? Il dialogo, coordinarsi meglio con tutte le parti portatrici di interessi e che tutelano gli interessi del territorio, gli imprenditori fra di loro e tutte le istituzioni. Serve una grande capacità di coordinamento e per questo anche di comunicazione. A breve comporrà la squadra, quali saranno i programmi che andrete ad attuare? Partiremo dai problemi in corso, le attività che devono essere prese, le opportunità che devono essere immediatamente colte, a partire dall'accordo di programma, a partire dal SIN, gestire queste difficoltà da un lato e anche delle opportunità e poi comunque insieme ai miei colleghi imprenditori poterci concentrare su poche mirate attività di rilancio della provincia dal punto di vista economico ovviamente. Ha parlato anche di costruire una cabina di regia proprio per attuare quello che ha detto? Sì, però non è un'idea di rilanciare una nuova tavola di cui non c'è bisogno. È un concetto immateriale che vuol dire saper dialogare, ripeto, con tutti quanti apertamente, senza retropensieri e tutti quanti con un unico obiettivo. Questo è il dialogo, questa è la capacità di coordinamento che dobbiamo avere con gli altri e questo vuol dire avere una regia e un senso comune. Il richiamo alla politica? No, nessun richiamo. Ognuno deve fare la propria parte. Chi amministra la cosa pubblica nell'interesse comune e noi imprenditori metterci delle idee nuove per proporre, per offrire delle opportunità di sviluppo. Ognuno deve fare il suo. Ognuno deve fare il suo.